Nel quartiere San Francesco Stazione, a 50 metri dalla Mata Scalinata, tra i caseggiati, c'è un piccolo parco giochi. Dopo parecchi anni di abbandono, finalmente posizionando questi giochi, arricchendo questo luogo, si dà una funzione diversa a un luogo altrimenti abbandonato. E' stata accolta benissimo dagli abitanti del quartiere, finalmente dopo tanto tempo vedono qualcosa di concreto. Ancora è in via di completamento, devono sistemare delle panche, abbiamo chiesto di potenziare l'illuminazione. Successivamente abbiamo chiesto di ripristinare l'asfaltatura perché è da tantissimi decenni che non viene fatta. Nel frattempo già i primi bambini giocano accompagnati dalle mamme. Noi siamo felici che hanno fatto questo parco qua per i nostri bambini perché è un'esperienza bella per loro, che scendono da casa, scendono qua e trovano le giostrine, poi si riuniscono tutti i cuginetti per giocare tutti insieme. Si tratta di un progetto del Movimento 5 Stelle, spiega l'assessore ai lavori pubblici, dove con i soldi dei tagli alle indennità dei deputati regionali si interviene per la realizzazione di strutture come queste nei comuni ad amministrazione pentastellata. Ulteriori interventi prevederanno la collocazione di altri giochi in altre aree della città di Caltanissetta, sia in via Filippo Torati, nella piazzetta del Marinaio, che nella villetta in via Ferdinando I e a Santa Petronilla. Grazie.